e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi video breve unboxing di un prodotto che mi sono comprato non è sponsorizzato però volevo farvelo vedere è un paio di guanti della marca shima non so se si vede comprati su amazon shima dovrebbe essere un marchio appunto di amazon che collabora comunque con amazon e infatti ha una pagina abbastanza bella magari vi metterò qualche immagine vedo comunque andate a cercare shima su su amazon e vi vengono fuori appunto tutti i prodotti di abbigliamento per motociclisti ho preso questo paio di guanti appunto da moto estivi che mi sembravano abbastanza buoni adesso andiamo aprile e scopriamo di cosa si tratta allora apriamo questa scatoletta ok e troviamo all'interno i guanti proprio così dentro nella scatoletta così allora innanzitutto ottimo c'è il marchio importantissimo c'è marchio importantissimo CE con l'omino vuol dire che sono con l'omino e comunque di tipo 1 la protezione e questo è molto importante questo marchio è molto importante perché fa sì che questi siano omologati e quindi già è un'ottima cosa e comunque già la qualità mi sembra al tatto buona ovviamente anche all'interno c'è il cartellino che riporta questa dicitura quindi ok era il dubbio che avevo perché sul sito su amazon non lo menzionavano che c'era questo marchio quindi ora vado a provare guanto prima che sia troppo stretto troppo largo ok calzata ottima quindi la mia taglia poi c'è una doppia chiusura chiusura qua e la chiusura e l'estremità inferiore bello una buona calzata ottimo ecco magari vi metterò mentre lo uso mentre vado protezioni sono ovviamente alle solite sulle nocche e ogni falange e falangetta qua c'è la protezione in plasticotto non so cos'è e qua c'è il rinforzo in pelle sono tutti rinforzati in pelle le dita c'è un rinforzo anche sul polso come qualità mi sembra ottima anche touchscreen si può utilizzare guardate si può utilizzare credo c'è anche il touchscreen fondamentale per usare i device e niente oltre questo c'è una bella protezione anche qua sul palmo bella bella dura palmo rinforzato anche questo in pelle comunque mi sembra un guanto discreto non costa nemmeno tanto ovviamente vi metterò il link in descrizione e andiamo provare anche l'altro buono buono piace lascia comunque bella una bella spazio una bella libertà di movimento guardate quindi però sembra ben strutturato e anche un pochino rigido che ma questa rigidità ci consente di essere un po più protetti quindi buona qualità dovevo dire diciamo che questi guanti sono ok quindi niente vi lascio magari a una prova su strada ci vediamo dopo per i saluti finali ed eccoci qua ragazzi sto provando un po i guanti della scima ho già fatto una ventina di chilometri appunto per provare un po le sensazioni e devo dire che sono sono davvero una buona un buon prodotto vestibilità ottima danno una bella rigidità al polso questo vuol dire che in caso di caduta o cosa il polso dovrebbe restare anche abbastanza ben protetto protezioni ci sono come avete visto hanno una buona calzata e vestibilità e comunque lasciano 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 una bella libertà di movimento quindi non non costringono anche se comunque si sente che al polso c'è un po di rigidità questo può essere un male perché comunque resta un po rigido il polso appunto però vedete che io qua riesco a e non è che da fastidio dall'altro comunque è un bene perché come vi ho detto resta magari più protetto più saldo in caso di incidenti in caso di caduta dall'altro sembra che hanno anche una buona reazione il che magari per il periodo invernale non è ottimo ma per il periodo estivo vanno più che bene infatti questi comunque si presentano come guanti estivi più che invernali o comunque primaverili una mezza stagione io calcolate fa ci sono 13 gradi adesso e non sento freddo alle mani ma però comunque sento una una leggera c'è una reazione molto buona alla mano appunto quindi la mano nel caso in estate resta ben areata e quindi non vi su da dentro almeno almeno si spera però comunque questa reazione con altri guanti io non ho mai sentita quindi da questo punto di vista devo dire che mi hanno stupito perché hanno davvero una buona ventilazione all'interno con una cosa che non vi ho detto comunque quando andate a acquistarli prestate attenzione alle taglie mi raccomando comunque c'è una una scheda delle misure dove andando via misurare il palmo della mano la misura la larghezza la circonferenza della vostra mano vi danno diciamo la taglia giusta al guanto giusto quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto sono ancora qua quei guanti vi ricordo se vi è piaciuto appunto il video di lasciare un bel mi piace ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità e niente spero appunto che questi guanti vi possano piacere io vi lascio ovviamente il link in descrizione se volete passare vi ringrazio e grazie ancora alla prossima ciao ciao